Buonasera signori, ci stiamo avvicinando alla gran gala serale e prima di cominciare a far venire qui tutti i maestri per il briefing vogliamo comunicare una cosa molto importante per noi all'arbitro Coppa. L'arbitro Coppa, oltre ad essere un arbitro specializzato in MMA ha voluto fare il corso di istruttore di MMA, un lungo corso di 4 mesi, forse anche di più, ha superato più di 40 ore tra Milano e Brescia, tra teoria e pratica insegnerà la palestra della FISCAM MMA ai bambini e anche agli adulti e ci auguriamo tutti insieme che possa continuare questo grandissimo conto e ci porta avanti. Signor Coppa Andrea Vogliamo ricordare che il nostro direttore tecnico di MMA è una persona poco conosciuta, Verginelli e il primo giugno il promoter di Sakara Manchiamato gli facciamo fare lo stage di MMA a Brescia probabilmente perché c'è il confederale di MMA a Brescia quindi vi ricordo che ci sarà questo grande evento per tutti gli appassionati della lotta di MMA con Sakara il primo giugno dove i nostri dirigenti e l'abitro Coppa sono invitati Grazie